Mi ha messo paura prima col discorso che ha fatto, perché si perde di vista una cosa molto importante e mi rifaccio anche con quel signore che ha chiamato prima e diceva che i figli bisognava solo guardarli in faccia e capire il dialogo, dove? Non c'è più il dialogo, non c'è più il dialogo, il muretto, la chitarra, non c'è più lo scavo Ascolta che questa notizia ti farà ancora più paura perché riprendiamo l'argomento di Second Life Second Life, quindi di vita virtuale dove il virtuale e reale si toccano sempre di più e c'è una notizia che vi voglio leggere sulla quale voglio il vostro parere, magari al bar, presentiamo un po' i nostri ospiti Second Life, paradiso corrotto, pedofilia e violenza nella comunità virtuale che simula la vita reale Su Second Life la prima denuncia per violenza